Io mi chiamo Federico Vallevretti e più o meno tra una certa età ho assistito alla nascita del web l'internet esisteva già ma quando faccio l'università non c'era il volvo del web che è il volvo che non è scontato noi ci mettevamo 20 minuti circa a riscaricare la cosa una manata quindi erano altri tempi e le cose che non mi posso dare e specialmente il superco, non male e niente, parleremo di software che è un concetto abbastanza interessante anche questa è una parola ormai che date riscontato se vi passa sotto tra le orecchie migliaia di volte al giorno però è una cosa abbastanza interessante perché contrariamente a quella che è stata l'industria dell'essere umano per milioni di anni il software e la conoscenza sono delle cose che non si consumano quindi se io ho una mela e la voglio condividere con i due faccio metà mela per uno, mangiamo metà mela e metà mela essenzialmente se ci basta bene ma se no tutte e due abbiamo fame quindi quando si parla di risorse materiali queste risorse materiali sono finite e abbiamo costruito tutta una civiltà tra lo stesso scambio di risorse con tutte le conseguenze del caso come le pre, i sucruci, l'economia e tutto il resto la conoscenza è una cosa interessante perché quando la condividiamo quella conoscenza non è più in metà conoscenza dell'uomo in realtà la somma delle conoscenze che abbiamo condiviso è più delle quelle originate quindi se va bene ognuno di noi a quel punto ha acquisito la conoscenza dell'altro ma insieme probabilmente queste due conoscenze sono superiori a quelle iniziali perché vanno in collaborazione quindi diciamo sulla definizione di software io direi possiamo anche andare avanti tanto insomma è più o meno più o meno scontata il problema è quando parliamo di software libero che poi in realtà in inglese molto spesso si vada di free software ma il concetto italiano free a non ci passa proprio è gratis non è proprio così ci sono delle sottigliezze e in linea di principio dobbiamo pensare che chiedo al software c'è qualcuno che ci ha lavorato molto spesso più di uno che ci hanno lavorato e hanno messo in questa relazione delle risorse il tempo quando si dovrebbe prendere si è passato a studiare i soldi nell'autobus e non andare a scuola il fatto che torna andare al mare piuttosto che fa perché risolve quel problema porta avanti quel progetto comunque c'è un investito delle risorse finite quindi diciamo il collegamento tra una risorsa infinita immateriale a comunque delle risorse immateriale indietro perché comunque anche semplicemente il tempo che noi passiamo su questa terra è finito quindi se quel giorno lavoriamo piuttosto che andare al mare l'hanno fatto con una scelta quindi bisogna tenere presente il concetto appunto che il fatto che il free software è free non è detto che sia gratis però è libero e adesso magari cercheremo anche di andare un pochino avanti e capire quali sono i concetti base di questa cosa noi tendenzialmente cerchiamo di far passare questi domi questi comandamenti sul free software che racchiude un po' un trabio perché è stata questa cosa che è nata appunto insomma intorno agli anni 80 87 non sbaglio forse qualche anno prima tendenzialmente da un lavoro iniziale di un personaggio un po' strano che siamo già stanno che poi la incontreremo in fotografia allora la prima libertà la libertà zero che secondo me è molto interessante magari vorrei un po' albervi su questa considerazione la libertà zero è la libertà di eseguire il programma per qualsiasi scopo qualsiasi questo significa che questo qualsiasi è indipendente da considerazioni anche di carattere murale forse o meno vi faccio notare una cosa durante il conflitto adesso c'è per questo trabio conflitto in Ucraina ovviamente si scontrano due grandi circotezze la Russia è una parte e essenzialmente gli stati di Milano di là fanno i loro interessi noi stiamo un po' alberto ovviamente se voi state in Ucraina realizzate il GPS lo utilizzereete con una pressione molto inferiore rispetto a quella che utilizzereete qui perché il GPS in Ucraina in questo momento è criptato e quindi diciamo la macro è composto da strider a cui sezione di strider che pian piano raffinano la posizione le ultime parti quelle che danno la processione del 30 centino immediatamente sono erano fino a poco tempo fa queste le carambole militari quindi militari sono i gatti o Nato quindi essenzialmente è scritto a quel blocco di potere i russi hanno un altro sistema a Gronas che più non funziona nello stesso modo vabbè poi un giorno rete non manca una ghiacchia che non funziona il GPS quindi allora l'area del recidio viene da un mero la voluta va in corria stretta del GPS è ugualmente riconosce ma in questo momento se dovete lanciare e digitare le varie passioni si scambiano dei medici civili ovviamente dove si può sutilizzare il suo questo dovrebbe essere effettato quindi la tecnologia anche se noi l'abbiamo liberamente non utilizziamo negatore di Google Maps eccetera eccetera e quindi ci va bene non è libero è condizionata a quello che decimano altri nel caso invece del tuo software nessuno ci chiede di giustificare il motivo per cui noi utilizziamo quel software noi lo possiamo utilizzare solo che ci pare come ci pare cioè è una licenza ma la licenza è di carattere diciamo il caso di lo software vanno in mutare e ci chiede poi lo vedremo dopo di rispettare alcuni alcuni principi fondamentali che garantiscono la sua valenza ma nessuno dice no tu questo Linux non lo puoi usare per metterlo sui cittadini di Google non è bello potrebbero essere condivisi di avere la morale però filosoficamente non è nessuno che lo dira perché nel momento che c'è qualcuno che decide cosa io posso o non posso fare in qualche modo non è un'interazione della mia libertà poi magari risponderò di migliazioni a livello legale a livello internazionale eccetera eccetera ma il software non si occupa di questo la seconda libertà che è poi in realtà collegata alla prima è quella di vedere cosa che sono io posso decidere di utilizzare il software libero per quello che mi pare ma fondamentalmente questo mi pare può significare anche un'utilità e quindi voglio vedere cosa che è vero e quindi significa avere a disposizione il soggetto non so se è mai lavorato un aculino o un microcontrollore o qualcosa del genere non so se c'è anche queste scheline perché più giattati in una serie di sensori non in diversi uscita il codice esadecimale che investisce il microcontrollore è stato introdotto del microcontrollore vuoi poter tranquillamente mettere le sonde e tirare un file in banco del codice che è stato dal microcontrollore però dicete che sarebbe molto difficile in queste tache si fa però è molto difficile quindi mi viene in principio quasi tutto il software che si gira nel mondo e quasi tutto anche l'hardware un po' spesso l'hardware è controllato da una data di software che c'è nel mondo lo potreste tirare giù e leggerlo però è molto difficile perché in un percorino non vuole tendenzialmente non si vuole che voi sappiate funzionare la vostra lavastoliglie perché se dopo sei mesi a due giorni abbiamo fatto la scadenza della garanzia della lavastoliglie quella decide se dovete comprare una lavastoliglie se voi siete capace di andare a leggere il software e vedete qual è il problema dove sorvete e c'è la lavastoliglie morta ovviamente questa lavastoliglie non si vuole ma dall'altro c'è anche un problema di Eats che tendenzialmente è più facile leggere un software scritto se il numero lavaggi minore di 500 then inizia la lavaggio else lampenta luce rossa che blocca tutto che face che non andare a vedere ma che 50 60 di quando c'è 16 ma quindi il software libero deve sempre mettere a disposizione il software corrigente del programma la libertà 2 ricordiamo che siamo partiti a zero quindi questa è la terza libertà la libertà di distribuire copie del software per qualsiasi modi che è un po' legato al primo ma è molto lontano da quello che è l'attuale situazione del software a livello globale ma infatti voi che erano i giochi c'erano il console qualcosa del genere le station 5 xbox eccetera quanti vuole scarica i giochi online piuttosto di comprare le cose fisiche perché possono meno perché andrà ormai se lo si distrì beh qual è il problema se tu domani decidi che che so fifa 2002 hai giocato tutte le partite che si è stupato puoi prendere il tuo software che è da capo il tuo software il software che è da capo il danno a un amico per 10 euro se tu hai c'è il dvd e quindi c'era un ricco mercato di usare cosa che non vuole perché loro in questo modo a due persone vendono un prodotto a 20 euro in tre rimane che vendevano un'altra invece l'altro cinza cioè loro comprovali sono 30 non 40 quindi l'azienda microsoft e tutto il sistema economico non vuole che voi abbiate accesso al software anche se poi non lo vedete dritto ma voi dovete vedere il complemento e il controllo del software questo è solo da essere gli utilizzatori e pagate invece in questo caso lui sta in un posto magari in una sua casa a un metro da dove arriva la bsl quindi lui accesso all'internet magari non c'era il uso che ha da due case in un'altra che ha la bsl e quindi in funzione a lui gli serve il libro office che deve lavorare la tessina lui è tranquillamente autorizzato a livello legale di scagliare il libro office che è un software libero mentre magari passaglio lui lo carica sul subito del lavoro quindi lui non ha avuto nessun problema con amici quindi gli ha fatto tranquillamente un favore però ha risolto il problema lui perché ha risolto il problema vuole fare la stessa cosa a Word lui lo scaricava da internet Word tirata office tirata io lo dava a lui i negociavano frattempo l'attuglia di Carabinio e gli dico che c'ha la diretta Word dove sta la licenza non gelò è il russo perché la prefenza è il russo è perciò scagarà la rente se sono minore diciamo un gine insomma due anni dei problemi c'è una certa differenza di approccia di quanto ci vediamo che c'è il penale c'è anche aspetti penali probabilmente non andrebbero due ragazze del liceo a mettere su stampata ma non lo so quindi il regio potrebbero effettivamente avere tutto il diritto deve disposizione un mostrumento dove possa fare la vostra via di studente di scrittore magari a noi mi piace scrivere di fungertista perché mi piace ingegnare un agicista perché mi piace suonare e inizia il vigilio dagli anni 80 di poi il nostro era fatto un passaggio dal mondo del codice che fa funzionare una macchina a un po' è diventato un'infamilità di manco e San che è stato un mietto del creatore diciamo questo è stato quello che si può voler andiamo a vedere la libertadria ok collegata a tutte le tante se io ho accesso prevedo da sotto ho accesso liberamente al codice ho la possibilità di vederlo se vuoi un'unità non è un'unità è un'unità difficile che uno va a mettere le mani per cercare che fa segno evidentemente c'è un'esigenza che questo programma fino a due anni fa non aveva la possibilità di essere mutato col telefono con il telecomando qualcuno aveva questa esigenza si è messo in tutto e hanno fatto in modo che non tutti poi non di vedere le slide oppure mandare indietro c'era ma io non lo posso fare perché ho bisogno del supporto del nostro presidente c'hai la regia c'hai la regia che penso che sappiamo tutti i giorni tutti i giorni tutti i giorni i sacri 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 sono i sacri 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 e mi mi per migliorare la distinzione del mondo dei pianeti non è che si è diventa come funziona somme come funziona sosprazione come funziona le comunicazioni c'è un know-how una conoscenza della matematica che era man mano provocata e diffusa nel mondo e ogni scienziato collaborava e impetrava le conoscenze di quelli precedenti per portare a partire la conoscenza collettiva. Nel momento in cui sono venuti fuori il concetto della conoscenza business e la conoscenza del potere, a quel punto è il nostro mito di access. Quindi la maggior parte delle aziende tecnologiche non prevette i propri prodotti. Perché nel momento che prevetta il prodotto, dopo vent'anni dal deposito del prevetto gli altri hanno accesso all'informazione del pregetto. C'è anche il pubblico che non viene presentato il pregetto. Però puoi integrare quel prevetto per farci male. Se io non lo pretego, ovvero non lo pubblico, rimane nella scorta dell'azienda e quel no-how mi lo portano tutti per 50, 50, 200 anni e vengono quel prodotto che gli altri non possono copiare perché io ho ricevuto il giudizio del quadro. Non lo potete diventare, voglio dire verità. Ma certo, il prodotto è diverso. Poi lui ma sta copiando una cosa. E viene diventata la rubata, è entrato nei sistemi, non sono serie cose. però, invece, la scienza è andata avanti con la condivisione della conoscenza. Perché lui non si è dovuto rinventare la rubata per poter rinventare il cartacolo differenziale. E direi che secondo me dovrebbe essere vietato il copiare. Però lasciamo perdere. Ok, quindi si parla di software libero se gli udenti, noi, gli udenti si chiedono anche coloro di fan, e non solo quelli che utilizzano. Perché utilizzarlo sentiamo di migliorarlo e migliorarlo è di fare la storia. Devo avere tutte le felipe, altrimenti non è sottotitata. Allora, falsi miti sul software libero. Allora, comande? Qualcuno vuole? Quanto dubbio in una comanda? Vabbè, avanti. Il software libero è galice perché vale di meno. Perché? E' intrinsecamente vero in questo tipo di processo creativo, in cui io miglioro quello che qualcun altro mi ha messo a disposizione. E' necessariamente vero che il software gratuito è il miglioro di quello commerciale? Di solito no, perché quello commerciale oddio tra i punti di sviluppo di centinaia di persone, che poi dovrebbero essere anche centinaia di prodotti, insomma, non è necessariamente detto che siano centinaia di gente. Oppure, spesso, vengono magari c'era uno, due o tre persone a portare anche questo software. E... Io vi posso assicurare che ho comprato, se siete per il telefono, un'applicazione di una macchina fotografica professionale, quindi la possibilità di fare esposizione, mettere a posti i colori, cambiare il proprio colore, eccetera. ma magari un po', un paio di bello mi sembra, perché era cuffetta, però... quindi, lo sviluppo, lo sviluppatore, lo sviluppatore si è assopato, che lo lì, pieno di bui, il suo attacco di microfono esterno si è scavato, se si è scavato, se si è scavato, che lo occupa a te lo miglioro con te lo miglioro con te lo miglioro con te lo miglioro con te. per fare quel progetto perché quello si è assopato, portando avanti e integrare i barmi e altre funzionalità. In pratica, nella maggior parte dei casi, il software libera capacità equivalente superiore, molto spesso una equivalenza uno a uno con le funzionalità del software liberale, standard di situazione, la finalità superiore, quasi sempre, alla maggior parte dei software commerciali. Perché? Perché possono dire che c'è bene. quindi io, se dovessi gestire un'azienda enorme, prima di pensare a un fardo, quindi una cosa fisica, non si riesce uscita dalla mia rete a diversi desterni, proprietari, io vorrei capire se ho la possibilità di gestire quanto a questo, in primis, perché se il giorno c'è qualcuno che dice che il mio paese è in guerra, quello che ha fatto un fardo, potrebbe decidere di gestire i miei sistemi, semplicemente, che ho fatto un fardo a dare l'accesso. secondo, perché è un fardo, 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 è un fardo sicuro, assolutamente sicuro, quindi, che ne erano le nostre semplicate, Andiamo. ok, il software in lingua è tutto caris, no, con il software in lingua si può fare il business, e poi magari, dopo magari facciamo qualche esempio, e spesso si, non si pagano licenze, quindi, che so, sul server che costa di microsoft, cioè, avete certo licenze, se avete certo licenze, se avete certo uno, dove potete pagare, la decenza più, 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 quei costi delle licenze, molto spesso le puoi inserire. Poi, sono sorprendenti? non basta poi sono anche le normative che hanno ricevuto questo tipo di comportamento normative che sono sono applicatorie quindi la legge ci sarebbe ma ovviamente in più delle volte siccome lo Stato non è tenuto a rispettare le leggi che fa ma noi se mettiamo la macchina numero 1 per fare le leggi sono ma le leggi che rispettano di solito andiamo avanti ok una nota di dolore quello è Richard Thalman non varie su questo scritto foto Robert Rodriguez perché quella foto è credito quindi la posso utilizzare però era chiesto dentro Wikipedia digitare l'autore l'autore della foto è anche è anche doveroso fare diciamo questa filazione Nello Stato 3 avvia il progetto CNU per diciamo con l'intento di creare un sistema operativo simile che era utilizzato dall'università ma composto interamente da software libero nell'85 che fondò la free software foundation che è la che si occupa di sanzionare le aziende che utilizzano software libero non rispettando quelle libertà precedenti quindi diciamo lungano sul lavoro dell'altro ma non danno niente qui non danno niente e per questo vedo anche il concetto di copilet con travi di orienti e la general public l'accent che è per la licenza una delle principali che è distribuita sotto il libro e quindi ha le licenze ha una licenza ha una licenza di libertà in cui viene sanzionata la tua libertà che non può tutto questo perché essenzialmente c'era curata ma stanno male quando magari di racconto la cosa e il fatto che non poteva parlare del lavoro con gli amici ma che non potevano con lezza perché eravano sottoposti a tutta una serie di contratti di non di specie di riservatezza lavoravano con le università per i privati o i militari e lui non era lì di guardare con i colleghi a cena del loro lavoro perché era obbligato per leggi e era un'amica di silenzio è inseribile vai l'altro genitore genitore 1 o genitore 2 tutto il progetto di stamano aveva preso piede da costituzionale pian piano si stava costruendo poi magari spiego un po' un giorno spiegherò come si forma un sistema radio e qualsiasi di cure che sono necessari ma tutto questo progetto mancava lo scheduler il programma che dice fare parte del codice in quel momento la CPU deve esibire lo scheduler originale diciamo il progetto GNU è molto pesante molto efficiente non funzionava GNU Storwald che si è lavorato all'università di Einstein nel 1996 è quello che ha donato al progetto GNU che è diventato GNU Linux lo scheduler al momento è il signore discluso del mantenimento del kernel è quello che dice questa politica al kernel si questa politica al kernel no voi la volete fare ovviamente il kernel non è efficace fare quello che vale lo sapete voi se volete questa politica la integra nel kernel divino se tutti scaricano da internet dovete passare da lui quindi è mantenato libertabilizzato ma lui è un po' il ritorno è buono vai ci sono genitori non genitori due migliaia di figli come potete vedete sono tonnellate di soft di livello qua non ha mai accettato un momento è l'accetta sì come all'inizio meno ma inizio è l'assoluto l'inizio però ci si mette a scondare in parte sennò saremmo ancora pieni all'uno stanno similati le lezioni condivise e a quel vostra vengono in piatta diciamo a quel vengono in piatta la notizia proposta perché la stabilità del sistema è un po' non è che doveva portare tanto lui è quello che può vittare l'indirizzo di evoluzione della cosa però probabilmente facciamo serie di modatori nomi per tutti apache server web kubernetes il gestore dei cluster le distribuzioni debian un tool sicuramente come sentire open gdk che è l'interprete java open source post frame sql server di database di hp probabilmente se voi andate a guardare questa stand live in cui ci sono messe alcune la metà o nei prossimi anni le conoscete sicuramente vuoi? domande risposte? domande? nessuna domanda? no? vai ma vabbè riguardando le risposte di servire servire di vengenzi un po' in la notizia dei attacchi da una parte di l'aria sono piatto le compensazioni insieme con i navivi eccetera eccetera quanto c'è la software libero eh relativamente poco perché si c'è le uno però a parte a parte gli scherzi allora vi posso dire questo abbiamo da poco creato un'agenzia nazionale della cyber sicurezza i bandi di concorso per accedere a proporsi candidati non sono riusciti quindi noi abbiamo fatto subito il capo il sole poi c'è una grande spero che mi sia stato lo mi sia vicino se poi abbiamo tempo o la possibilità se avete domani grazie ciao ciao Grazie a tutti.